Sine cosa hanno nato? Oggi a Milano perché? Andiamo a protestare contro una manovra che è particolarmente dura nei confronti dei comuni e che ha una caratteristica estremamente negativa, quella di non pensare al rilancio economico del paese. Ora, se possono fare sacrifici i comuni sono disposti a farli, ma bisogna farli anche in vista di un rilancio, di un rilancio economico, di un rilancio produttivo, di una crescita che consentirà di affrontare e risolvere una serie di problemi. Se si fanno soltanto al ribasso, come avviene, avremo una riduzione dei consumi, meno occupazione e in prospettiva le cose invece di andare meglio andranno peggio.